Domenica 30 agosto, Santa Faustina e il 242esimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 123 alla fine. Il sole sorge alle 6 e 30, tramonta le 19 e 56. La luna si leva alle 20 e 18, tramonta le 7 e 10. Grande scontro con gli Ungheri sul fiume Levenza presso Motta. Per merito di Pietro Loredan e Carlo Malatesta, che trattengono il rincuorno alle truppe, i nostri sconfiggono gli avversari che vengono inseguiti fino a Portobufolè con la perdita delle insegne e un gran numero di prigionieri. Alla 22esima festa dell'agricoltura, sabato 5 settembre, è protagonista la solidarietà con lo spettacolo Truffatori, di e con Moreno Morello. Raccolta fondi per la ricostruzione della riviera del Brenta, colpita dall'uragano. Aiutaci anche tu! Le previsioni per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura fino a metà mattina, foschie e qualche nebbia, precipitazioni assenti. Temperature simili a ieri in pianura e nelle valli, in lieve diminuzione in alta montagna.